Tra le tantissime ricette bimbi, avete mai provato a fare il pan di spagna? Iscrivetevi al canale e seguitemi per conoscere una ricetta speciale del pan di spagna bimbi. Il pan di spagna che realizzerò oggi sarà un pan di spagna rettangolare, quindi mi sono fornita di questa teglia che è già imburrata e infarinata ed ha questa forma proprio perché andrà a realizzare una torta di compleanno. Quindi per necessità di decorazione la forma sarà questa. Allora, gli ingredienti necessari per questa ricetta sono 300 g di uova intere che corrispondono circa 5 uova, 75 g di tuorli, quindi altre 3 uova, 260 g di zucchero, una stecca di vaniglia, ma io utilizzerò questo estratto di vaniglia, delle scorzette di limone, farina doppio a zero per i dolci e della fecola di patate. La prima cosa da fare dopo aver imburrato la teglia e infarinato sarà quella di inserire la farfalla all'interno del boccale, proprio perché questo pan di spagna non verrà fatto con del lievito, ma è un pan di spagna che crescerà e diventerà alto senza lievito. Quindi il posizionamento della farfalla per montare le uova che andremo a mettere è fondamentale. Come abbiamo visto anche in altri video, la farfalla va inserita in questo modo e viene fatto mezzo giro in modo da non doversi staccare. Ok, andiamo a pesare all'interno del boccale 300 g di uova intere che corrispondono a circa 5 uova. Ci aiuteremo col coperchio, come abbiamo visto in altri video, questa scanalatura ci aiuta a rompere le uova. Siamo a 2, 3, 4, dipende anche dalle dimensioni delle uova. Ci sono uova più grandi, più piccoli? Ok, siamo a 260 anziché 300. A me va bene così e proseguo. Proseguendo nella ricetta mi chiede 75 g di tuorli. Ora, noi possiamo utilizzare il misurino che ci permette di separare i tuorli dal bianco. E quindi... Quindi ripetiamo l'operazione. separando il bianco dal tuorlo aiutandoci con il misurino. Questo bianco, dovendolo separare, lo metteremo in un bicchiere. E a questo punto tariamo la bilancia e versiamo all'interno del boccale i tuorli che dovrebbero corrispondere a circa 75 g. Proseguiamo aggiungendo 260 g di zucchero. Aggiungiamo 10 g di scorzetta di limone. grattugiata, oppure anche così come l'ho messa a pezzettini per chi piace magari a pezzettini e un pochino di estratto di vaniglia. La ricetta ci chiede i semini di vaniglia ricavati dalla stecca. Io in realtà preferisco mettere l'estratto direttamente liquido. proseguo con la ricetta e come mi viene indicata anche perché questa è una ricetta che troviamo su kukidu.it io la sto facendo in modalità guidata proprio perché è già tutto impostato. Mi viene più facile e veloce. Poi se voglio apportare delle modifiche avendo già di base una ricetta in modalità guidata mi viene facile variare a mio piacimento in corso d'opera. Quindi per chi magari è più pratico più veloce o chi diciamo è abituato a fare dolce o cucinare qualsiasi altra cosa la modalità guidata aiuta tanto a velocizzare. Non toglie la possibilità di essere creativi o inventare, variare qualche ricetta ma ti velocizza proprio perché già le dosi, la bilancia e tutte le funzioni sono già preimpostate. A questo punto chiudiamo con il coperchio il misurino 15 minuti a 40 gradi già preimpostato ruotiamo la manopola fino alla velocità di 4 e proseguiamo con il passaggio successivo. La ricetta prevede di aggiungere 180 grammi di farina setacciata e qui ecco un segreto bimbi io ho la possibilità di mettere la ricetta in stand by come avete visto in altre ricette mettendo l'iconcina verde qui in alto impostare la bilancia tarare e andare a pesare il quantitativo di farina necessaria. La farina che mi viene richiesta è una farina setacciata e io ho la possibilità di setacciare direttamente col cestello la farina i 180 grammi di farina che mi vengono richiesti facendo in questo modo. Quindi posso setacciare e nel frattempo pesare anche la farina. ecco una volta setacciata i 180 grammi di farina e i 75 grammi di fecola di patate che mi era stata chiesta all'inizio tra gli ingredienti vado a riprendere da l'iconcina il momento in cui era arrivato. a questo punto possiamo togliere la farfalla e proseguire trasferendo il composto in una ciotola capiente. Quindi togliamo la farfalla cercando di recuperare lo zucchero e le uova montate vedete come soffice grazie anche alla temperatura e versiamo il composto in una ciotola come indicato ci aiutiamo con la spatola e portiamo tutto nella ciotola capiente dovremmo incorporare le farine e proseguiamo a questo punto dobbiamo incorporare le farine con il composto cercando di fare dei movimenti dal basso verso l'alto e incorporare tutte le farine che avevamo precedentemente tutte e due le farine che avevamo precedentemente setacciato ecco incorporiamo con movimenti dal basso verso l'alto e mano a mano aggiungiamo le altre farine a questo punto versiamo nello stampo preparato come viene indicato anche nel monitor del bimbi abbiamo la possibilità di utilizzare per questa ricetta il bimbi sensor quindi il termometro da cucina che ci aiuterà a dare la temperatura perfetta per la cottura del nostro pan di spagna cosa che abbiamo visto anche in altri video a questo punto come leggiamo nel monitor possiamo il forno già è preriscaldato possiamo inserire il sensor all'interno del del pan di spagna grazie all'aiuto del supportino andiamo nel bimbi sensor possiamo fissare il termometro la teglia come abbiamo visto anche nel video facciamo invia e a questo punto inforniamo abbiamo la possibilità di monitorare la temperatura direttamente dal cooking center la nostra applicazione che ci permette di controllare la temperatura all'interno del pan di spagna come è indicato anche nel monitor del bimbi ecco questo è il risultato il pan di spagna appena sfornato con attenzione prendendo un proteggendoci anche con un canovaccio sfiliamo il bimbi sensor che poi laveremo e il pan di spagna è pronto il pan di spagna per farcire la mia torta è pronto lo lasciamo freddare completamente e poi possiamo tagliarlo a metà per farcirlo con della crema bianco al ceccolato o ci sono tantissime ricette su cookie do e idee per farcire le torte a qualsiasi gusto iscrivetevi al canale adesso se ancora non l'avete fatto e scrivetevi nei commenti qual è il dolce che più vi piace grazie grazie grazie